Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico congestionato si registrano 6 km di coda tra Aglio e il Bivio con la variante del Valico in direzione Roma. Codi a tratti invece a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicce e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, code a tratti anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Passiamo sulla 11 dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra il raccordo Luccaviareggio e Pisa Nord in direzione Pisa. Code a tratti anche in A15 ma a causa di un veicolo in avaria tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece a causa di un incidente code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!